Come siamo partiti l'anno scorso, penso che sarà difficile ripartire in quel modo. Penso che quest'anno sarà meglio, per cui andiamo in questo ritiro bello riposato per affrontare quest'anno. Adesso è tutto un contesto diverso, adesso c'è allenatore nuovo, dobbiamo andare con la testa giusta, pensare agli errori che abbiamo fatti e cercare di non commettere più. Fabiano e Ferrari come centrali, come la vedi questa coppia in Serie A? Siamo in tanti, c'è pure schiavi, poi non so se arriverà qualcun altro, però siamo là in 3-4, non c'è come l'anno scorso, possono giocare chiunque, per cui chiunque gioca è importante che faccia bene la squadra. La squadra dell'anno scorso potrebbe essere competitiva in Serie A, con qualche elemento nuovo? Penso di sì, c'era una bella squadra, dei ragazzi giovani che avevano la voglia, con quelli un po' più esperti pure che avevano la stessa voglia, per cui era un gruppo buono, un gruppo dei ragazzi bravi, quella è stata la cosa più bella dell'anno scorso. Cosa pensi sulla normativa restrittiva sugli extracomunitari? Io non so, non sto sapendo niente. Sono arrivati ieri, non so niente. No, non vedevo l'ora, era quello più difficile quando mi avevano chiesto, adesso ancora, è ritornato, no? Un po' più grosso. Un po' più grosso, più difficile ancora, perché... No, penso, poi ci sono tanti altri. Quello dei due anni fa, quando mi avevate chiesto, ha detto lui, c'era pure Ibrahimovici. E quest'anno c'è Milito, c'è Adriano, per cui sono tutti giocatori difficili da marcare. Io sono del Lecce, ho ancora un anno di contratto e la mia testa è solamente a Lecce, per cui non ho neanche pensato a niente, ti dico la verità. Comunque Lecce è una piazza che mi ha dato tanto, io devo ringraziare sempre a Lecce. No, sono disposto, se c'è la volontà della società di prolungare, possiamo parlare, io sono disposto, sì. Speravi che il Brasile arrivasse oltre ai mondiali? Mamma mia, mamma che nervoso, ma no, non solo io, penso tutto il Brasile, perché comunque la giornata della partita nessuno lavora. Dovunque vai è tutto chiuso, per cui è stata una disoluzione grandissima. La Italia l'hai seguita, come l'hai vista? Sì, sì, no, ho seguito quasi tutte le partite, perché in Brasile le fanno vedere tutte, no? Quello mese lì non parla d'altro se non Coppa, del Mondiale. Ho visto l'Italia, sì, sì, mi dispiace anche per l'Italia, perché dopo il Brasile io tipo l'Italia, no? Per cui mi è dispiaciuto, non l'ho vinto da nessuna parte. No, ci sono anche in Brasile, ci sono dei bravi difensori, ho visto già qualche partita là, che non ho seguito da tanto, ho visto i difensori stanno migliorando tantissimo.